A breve partiremo con un nuovo format, si chiamerà Occhio a quei due, una striscia, una trasmissione che vuole, tra virgolette, tirare le orecchie ai vari soggetti istituzionali che operano sul territorio ionico e non solo. Cercheremo di inchiodarli alle loro responsabilità nell'ottica sempre e comunque della difesa del cittadino. E ho qui al mio fianco l'amico Francesco Borgia, lui in questo format sarà l'operatore video, Francesco Borgia è peraltro giornalista, pubblicista ed è direttore di Puglia Lab. Francesco, una responsabilità bella grossa perché non sarà facile beccare all'improvviso certi politici, certi soggetti che verranno presi alla sprovvista. Ma tu hai oltre a godere di disporre di grandi capacità professionali, c'è la passione, c'è il fuoco vivo che ti anima. Per questo ho detto realizziamo questo format con un binomio a mio avviso vincente. Sicuramente sarà vincente perché c'è la passione che ci accomuna e appunto questa passione ci spingerà ad andare avanti per questa nuova sfida editoriale, appunto questo nuovo format che sarà un programma, una striscia televisiva che renderà partecipi i cittadini del nostro territorio appunto di quella che è la vita a 360 gradi della nostra città. Quindi come dicevi rendere trasparente tutto ciò che magari viene occultato, reso non pubblico, noi lo andremo a scovare, come dicevi tu, tirare le vecchie a coloro che vogliono nascondersi. Noi lo andremo a scovare. Diciamo che dovremo un po' prepararci fisicamente tra virgolette perché saranno delle interviste di assalto e quindi Francesco soprattutto tu come operatore dovrai fare l'acrobata perché immagina a inseguirli o se qualcuno dovesse magari buttare a terra la telecamera, coprire l'obiettivo, insomma sembreremo quasi in assetto da guerra tra virgolette. Pronto a tutto per, come dicevi prima, c'è questa passione che mi spinge, ci spinge quindi a queste sfide, perché saranno delle vere sfide. Delle vere e proprie sfide. Quindi più di qualcuno dovrà iniziare a tremare. Francesco intanto tu hai già avuto delle esperienze nell'ambito appunto mediatico, l'esperienza di direttore di Puglia Lab. Sì, è una realtà che con tanti sacrifici però con la passione di base va avanti nel campo delle produzioni televisive dal 2010. Quindi insomma c'è un po' di background alle spalle. Quindi non ci resta che preparare un po', stiamo definendo la lista degli obiettivi sensibili. All'improvviso noi saremo sul campo, in trincea, i guerrieri dei diritti dei cittadini. Benissimo, ci seguirete, ci potranno seguire diciamo a 360 gradi perché con l'era della multimedialità saremo facilmente raggiungibili ovunque e dovunque. Presto dunque su Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre.